Questa playlist per quanto riguarda la guida su strada è finita e pronta una playlist per tutti i fondamentali della guida in off-road spero che al più presto si possano fare delle prove su strada per creare nuovi contenuti più dinamici, più divertenti se siete interessati a un vero corso mi raccomando contattatemi lascerò tutti i miei contatti qui sotto per quelli che non mi conoscono io sono Daniele iscrivetevi al canale, lasciate un commento sotto i video e noi ci vediamo presto, ciao!